Musica Ben trovati al consueto appuntamento con informazione di Tele Bari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi. Bari pedala, spacca in due gli organizzatori. Da un lato ci si lamenta delle condizioni della spiaggia di Torrequetta, dall'altra invece totale soddisfazione. Una location trovata in condizioni diverse da quelle promesse, con l'assenza di servizio bar, un solo cancello aperto per far defluire il traffico e conseguenti disagi, scarsa pulizia della zona e bagni pubblici aperti per troppo poco tempo. L'organizzazione di Bari pedala, la manifestazione per gli amanti delle due ruote che si è tenuta ieri, si spacca in due. Da un lato Alessandro Antonacci, dell'Associazione Le Zanzare, che si lamenta di un'organizzazione approssimativa e superficiale, a fronte di mesi e mesi di preavviso. Dall'altra, Pino Marzano, della scuola per ciclisti Franco Ballerini, che invece non ha nulla da eccepire. E a fronte delle polemiche, la nuda cronaca è un'organizzazione gestita nell'emergenza, a causa dei ritardi nell'affidamento della concessione della spiaggia cittadina di Torrequetta. Per mesi l'assessore al commercio, Carla Palone, ci aveva detto che avremmo avuto degli interlocutori, da gennaio è stato affidato. C'erano tre bar che potevano lavorare e quindi altre tante persone che potevano lavorare da diverse settimane. E nessuno ci ha dato una mano, nessuno degli uffici tecnici sapeva che ci sarebbe stata Bari pedala in quella struttura. Hanno fatto qualcosa gli ultimi tre giorni, abbozzando qualcosa con l'amio, venendo a pulire la belle meglio e facendo noi la pulizia dell'erba alta. E la replica di Pino Marzano arriva immediata. Quello che non accetto sono le critiche verso l'amministrazione. L'amministrazione si è comportata veramente in maniera egregia, ci ha messo a proprio agio a fare tutto quello che dovevamo fare. Devo ringraziare i vigili urbani, l'amministrazione, tutti gli operatori dell'AMTAB, dell'AMIO, che ci hanno fatto il modo di poter fare la manifestazione in maniera egregia. Noi abbiamo riaperto Torequetta, che è chiusa perché non è stata ancora affidata la gara per la gestione della spiaggia, solo ed esclusivamente per Bari pedala. Ma anche Alessandro Antonacci non è solo. Sono state più persone infatti a lamentarsi delle cattive condizioni in cui la spiaggia cittadina è stata trovata prima dell'inizio della manifestazione. Se ciò l'avessero detto per tempo, la tesi di Antonacci, avremmo potuto cambiare sede e garantire ai partecipanti i migliori servizi. Un uomo di 70 anni ha perso la vita questa mattina dopo un malore accusato mentre era alla guida della propria auto sulla strada provinciale 236 che collega Vitritto a Bari, in direzione Bari e pochi metri prima dell'uscita Parco Adria. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato. Procede l'organizzazione per la festa di San Nicola. Questa mattina nuova riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica. Sindaco, Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in vista della festa di San Nicola, quali sono i primi interventi che predisporrete? Gli interventi sono il controllo della zona, la realizzazione di difese passive, cioè l'installazione delle transenne dei New Jersey, di Fioriere, in alcune zone della città che saranno interessate dalla festa patronale. è un controllo molto forte sulle attività all'interno della zona che sarà inibita al traffico, anche alla luce di quello che è emerso poi dalle inchieste, di cui ci eravamo accorti qualche anno fa, quando abbiamo fatto quella battaglia che non era una battaglia sulle fornacelle, ma era una battaglia di legalità e l'inchiesta ha poi dimostrato che c'era una spartizione del territorio da parte dei clan criminali. Procede quindi l'organizzazione per la festa di San Nicola, nulla è lasciato al caso, particolare attenzione al lavoro degli ambulanti, con novità positive. Siamo riusciti con gli ex abusivi, o meno quelli che non avevano nessun tipo di autorizzazione negli ultimi tre anni, ad autorizzarli con dei corsi, quindi corsi per la somministrazione di bevande e elementi, con le associazioni di categoria che hanno omaggiato l'amministrazione e queste persone a poter avere autorizzazioni e fare dei corsi specifici. Si torna in Aula Dalfino questo pomeriggio alle 16.30 per una nuova seduta del Consiglio Comunale, l'incontro della Sise Cittadina oggi sarà dedicato al Question Time, il botta e risposta a tempo tra i consiglieri e gli assessori sulle principali questioni cittadine. Recuperare il patrimonio immobiliare pubblico grazie ad esperti con una formazione ad hoc. Un'Ibe e Agenzia del Demanio firmano un protocollo d'intesa per restituire questi spazi ai cittadini. Roberto Maggi. Un protocollo d'intesa per la rigenerazione e riuso del patrimonio immobiliare pubblico. Agenzia del Demanio e Università degli Studi di Bari insieme per restituire alla cittadinanza immobili inutilizzati attraverso le competenze dell'Ateneo Barese. La firma è arrivata a Bari. Il patrimonio immobiliare pubblico è vastissimo. Per gestirlo servono figure ad hoc in grado di supportare le pubbliche amministrazioni e scegliere al meglio quali nuovi destinazioni assegnare a questi luoghi. Con il progetto cammini e percorsi sono già stati assegnati 83 immobili su 183 per cui spiegano dal Demanio sono previsti investimenti pari 80 milioni di euro e 300 nuovi posti di lavoro. Del resto è il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Bari Antonio Ricchio a sottolineare come questa collaborazione abbia radici anche precedenti alla firma di questo protocollo. Il tema è la costituzione di un fondo immobiliare pubblico che poi oggi ha consentito anche di avviare la progettazione e fra poco anche l'esecuzione dei lavori sulla manifattura tabacchi. Il fondo immobiliare in limit del Ministero delle Economie e Finanze che può anche la mamma dell'Agenzia del Demanio. Questa azione di valorizzazione, di incensimento e di analisi del patrimonio pubblico è da tempo condotta dall'Agenzia del Demanio con riferimento a tutto il territorio regionale e l'impegno anche dell'Agenzia del nostro territorio è proteso anche all'individuazione di immobili che possono essere offerti alla fruizione pubblica. La Polizia di Stato di Bari nelle scorse ore ha arrestato un 27enne barese responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'arresto è avvenuto al quartiere Sampio dove una volante dopo aver notato alcune persone sospette decideva di procedere con un controllo. Alla vista della pattuglia però uno dei presenti si dava rapidamente alla fuga, ne scaturiva un inseguimento a piedi immediatamente vinto dai poliziotti che dopo la perquisizione personale rinvenivano addosso al ragazzo oltre 7 grammi di cocaina. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto ai domiciliari. Un ponte tra Cina e Italia attraverso il canale cinematografico. Se ne parla nel corso di China Insight uno degli appuntamenti collegati al Bifest ed è proprio al Bifest ieri che è stata la giornata di Pippo Baudo. Vediamo. Il primo evento dedicato all'industria cinematografica cinese e alle collaborazioni Italia-Cina parte con il Bifest 2018 China Insight. La Due Giorni è organizzata dalla Puglia Film Commission con il patrocinio della sede di Shanghai dell'Istituto Italiano di Cultura. Bari, del resto, lavora da tempo a una crescita dei rapporti con gli operatori della Repubblica Popolare Cinese. A spiegarlo è Gianpaolo Camaggio, moderatore per i due appuntamenti. Questa iniziativa in realtà permette al pubblico di Bari di conoscere un'industria cinematografica ancora oggi poco conosciuta. e permette di alimentare delle relazioni che già esistono, in particolar modo tra Bari e la Cina. Ricordiamo che Bari è gemellata con Canton sin dal 1986 e quindi di alimentare delle relazioni avendo degli ospiti internazionali molto prestigiosi. Se da un lato questo ponte potrebbe portare a numerose coproduzioni italo-cinesi, dall'altro lato non bisogna sottovalutare la forza comunicativa del cinema, che aiuterebbe la Puglia a raggiungere nuovi mercati anche turistici. La nostra missione di Hongdian by Creations Film Media è presentare la cultura italiana. Speriamo tantissimo di poter portare i prodotti di Bari tramite questo canale di cinema in Cina. Sicuramente esistono le opportunità di coproduzioni italo-cinesi per aiutare i giovani e i nuovi registi e produttori per entrare a questo grande mercato cinesi. Il cinema italiano ha una gran reputazione in Cina, per esempio Federico Fellini, Giuseppe Tornatore, Bernardo, Pertolucci sono molto famosi in Cina. Tramite questo canale di cinema sicuramente ci sono i milioni di viewers, i milioni di cinesi possono vedere il film realizzato anche in Puglia, per poter portarli in Puglia a livello turistico. E lezione di cinema con sorpresa, dicevamo quella di Pippo Baudo al Teatro Petruzzelli, che cita tra le eccellenze dell'arte pugliese Gianni Ciardo, inconsapevole del fatto che fosse in platea. Guardate cosa è successo. Ho avuto l'onore di conoscere un grande impresario, un produttore pugliese che era Enzo Zabetto, che mi piaceva fare in Cattapuglia, facevamo dei concorsi di bellezza. E poi c'è un comico pugliese che mi faceva morire, che non ha avuto il successo che meritava, Gianni Ciardo. Allora, se... Allora, se... Allora, se... È in agio, Gianni Ciardo. Gianni. Guarda. È facile. Piacere. Sempre uguale. Gianni. Sempre uguale perché io penso soltanto di cialenzo. Ecco perché mi mantieni. E poi... E poi basta. Basta. No, perché... Basta perché mi è sufficiente la minima. Sei felici? Oh, Pippo. Oh, Pippo. L'informazione termina qui. Vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it. Ed ora vi lascio al meteo. Amici, tra i bimito, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che a inizio giornata vi trò ancora qualche residuo a quazione interessare all'estremo nord-est, ma nel complesso ci attendo un martedì anche con alta pressione e ampie zone di sereno. Come nuvolosità, così ritroviamo qualche annuvolamento ancora a inizio giornata sul Triveneto, che però, come vedete, tenderà poi ad allontanarsi. Per il resto, cielo sereno, poco nuvoloso, solo qualche annuvolamento di passaggio nell'Italia centrale. E anche come precipitazioni, diciamo, qualche locale piovasco a inizio giornata sulle regioni di nord-est, in graduale allontanamento. Quindi nel complesso, ripeto, grandi cose non capiteranno. Quindi in definitiva, giornata che definirei tranquilla, con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola, dicevamo, tra il nord-est e l'Italia centrale. Ancora temperature comunque molto piacevoli, al nord continuiamo a superare i 25 gradi. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie per la visione!